Alfonso mi chiedevo, ma adesso cosa c'è, cosa abbiamo? Io direi di passare... Voglio a questo punto noi siamo a formare una pubblicità Ta-ta-ra-ta-ta-ta-boom! Pubblicità! Vivi i tuoi giorni più importanti in un'ambientazione da favola Vieni a Villa Mirabella, il luogo perfetto per le tue cerimonie, meeting e eventi Un'elegante sala panoramica da 250 posti, dove potrete ammirare il fantastico panorama sul Golfo di Napoli e Sorrento La sala è di uno stile classico e raffinato, ma nello stesso tempo accogliente e il servizio è altamente qualificato, curato nei minimi particolari Abbinato a una raffinatissima cucina che vi delizierà con la migliore tradizione partenopea Villa Mirabella, una straordinaria struttura dove trascorrerete una giornata indimenticabile Cosa aspettate? Renottate subito! 081 537 2728 Villa Mirabella, ristorante per eventi e cerimonie In via Panoramica 10, Bosco Tre Case